Io sono amareggiato da questo punto di vista, perché l'Italia merita un biglietto da visita migliore rispetto a quello che viene offerto. L'Italia in questo momento è l'impegno dei nostri soldati e l'Italia in questo momento è in ogni angolo del mondo l'ennesima polemica, l'ennesima brutta pagina del nostro paese e credo che non soltanto gli italiani di centrodestra, ma gli italiani tutti vogliano, pensando al proprio paese, vogliano poter dire che con tutti i problemi che ci sono, purtuttavia abbiamo delle istituzioni, abbiamo un governo, abbiamo una democrazia che non ha nulla da invidiare a quella degli altri.